A tutti buon pomeriggio. L'Italia vive un momento di carattere politico che possiamo definire di assoluto presentismo e per uscire dal vicolo cieco del presentismo occorre anche sul piano dei rapporti internazionali riscoprire la natura del nostro paese come punto di equilibrio del Mediterraneo, come croceria tra i flussi di interesse e i flussi di potere delle principali potenze del globo. Ci troviamo a fare i conti con una sindrome di inferiorità e per sconfiggere quella sindrome di inferiorità che già era descritta da Enrico Mattei, non soltanto oggi, di cui bisogna fare menzione, bisogna fare ricordo, occorre avere ben chiaro che nessuno, se non l'Italia stessa, può prendersi cura degli interessi italiani e prendendosi cura degli interessi italiani, prendersi cura dell'Italia inserita in un contesto europeo. Ed è così auspicabile che l'Unione Europea e in particolare quei paesi che hanno contribuito in maniera determinante alla sua edificazione, i paesi che diedero luogo all'Europa dei popoli e delle nazioni, comprendono quanto prima che ci sono stati sicuramente degli errori nella costruzione di un'Europa soltanto di carattere tecnocratica e bisogna ragionare, soprattutto gli errori commessi nei confronti dei paesi dell'Europa meridionale, ragionare su come risolvere questi problemi. Occorre dirlo con grande chiarezza, l'Italia deve essere sicuramente disposta ad un dialogo, non deve diventare però mai disposta ad elemosinare favori o concessioni e anche all'interno della costruzione del Recovery Fund di Next Generation EU questa cosa deve essere molto chiara. Quello che serve è sicuramente un cambio di atteggiamento da parte dell'Europa, ma serve un cambio di atteggiamento da parte dell'Italia, necessario sicuramente a costruire un'Europa più orizzontale e più giusta dove si rinuncia a procedere per imposizioni. Abbiamo visto nell'ultima settimana tutta una serie di dibattiti legati al fatto che forse il Recovery Fund andava fermato o per mano dei paesi cosiddetti frugali, per esempio in Olanda, o per mano dei paesi del gruppo di Visegrad, tipo l'Ungheria e la Polonia. Ecco, serve un cambio di atteggiamento. Bisogna rinunciare a procedere per imposizioni impopolari o per forzature, ma sicuramente l'Italia deve trovare una sua idea, una sua identità. Occorre ripensare il rapporto con l'Unione Europea, oltre a chiedere fondi per i nostri problemi, dobbiamo avere la capacità di portare all'attenzione dell'Unione Europea fatti, circostanze e progetti che servono alla crescita del nostro paese, ma che servono alla crescita di un'Europa rinnovata, di un'Europa che esca dalla spirale tecnocratica di cui ha parlato il filosofo Jürgen Habermas. Noi da questa spirale tecnocratica dobbiamo uscire. Per uscire usciamo soltanto con una politica industriale italiana inserita in una politica industriale europea, perché la politica industriale, proprio perché è un fatto della politica, la politica è soltanto per l'uomo, quindi non soltanto per gli interessi finanziari, ma per gli interessi della crescita della persona umana, per l'uomo ovunque esso si trovi. Quindi dobbiamo ragionare su quello che serve all'uomo e allora creare una serie di incentivi, previsione di nuovi incentivi, fusione di aggregazione di aziende, volta a rafforzare le piccole e medie imprese, le micro imprese sul piano matrimoniale, raggiungere massa critica, creare tutta una serie di situazioni che possano portare all'avvicinamento dell'Europa e del paese e della politica ai territori, perché noi abbiamo avuto questo grosso problema, che è quello dell'allontanamento della politica italiana, figuriamoci di quella europea, dei nostri territori, quindi l'allontanamento delle persone dalla politica, dunque l'allontanamento della politica dall'uomo e quindi un meccanismo assolutamente perverso che ci ha condotto a quello che si chiama il populismo e quello che si chiama il presentismo, da cui dobbiamo assolutamente uscire. Dunque dobbiamo realizzare bene i progetti che abbiamo in mente, dobbiamo soprattutto saperli presentare bene, dobbiamo avere un orizzonte di medio e lungo termine, dobbiamo decidere una visione strategica, dobbiamo scegliere poche priorità per concentrare le energie e queste priorità devono averne una davanti a tutti, l'uomo, fine ultimo dell'azione politica.